Allora Vale, iniziamo subito, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato proprio dall'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del toro nasceva un pianista, compositore e presentatore televisivo. Nel 1923 a Trieste nasceva Lelio Luttazzi. La mamma era una maestra elementare, mentre il papà, Mario Luttazzi, muore per tubercolosi quando Lelio aveva appena tre anni. Lelio inizia a studiare il pianoforte grazie al parroco di una frazione di Trieste, Prosecco, che impartisce lezioni in canonica. Dopo la scuola media si iscrive al liceo classico, dove instaura un'amicizia con il nipote di Italo Svevo. E durante la seconda guerra mondiale si iscrive alla facoltà di giurisprudenza a Trieste. Ma il suo grande amore per la musica fa abbandonare gli studi all'università. E così riprende suonando il pianoforte per radio Trieste. Nel 1943 si esibisce come direttore d'orchestra presso il Teatro Politeama Rossetti di Trieste per aprire il concerto del cantante Ernesto Bonino. Ernesto Bonino, colpito dalla grande personalità artistica di Lelio Luttazzi, gli commissiona un brano inedito. E così nasce il giovanotto Matto. E così Lelio Luttazzi decise di diventare musicista a 360 gradi, per merito dei proventisiae del brano Giovannotto Matto, che a quei tempi prese 350.000 lire. Nel 1948 si trasferisce a Milano su chiamata del suo concittadino Tedi Reno per diventare direttore artistico della CGD. E per Tedi Reno Lelio Luttazzi scrive un brano, Muletta mia. E nel 1950 si trasferisce a Torino per diventare direttore d'orchestra della RAI, creando la prima orchestra ritmica d'archi per la televisione italiana. Negli anni seguenti lavora come direttore d'orchestra nei programmi radiofonici condotti ad esempio da Mike Buongiorno, nel programma Il motivo in maschera, e da Corrado con Rosso e Nero. L'esordio televisivo avviene nel 1955 in un programma televisivo RAI con il grande Gorni Kramer, mentre la sua carriera da presentatore avviene nel 1962 insieme alla giovanissima Raffaella Carrà nel programma Il paroliere, questo sconosciuto. Presenta poi trasmissioni televisive con la grande Mina e per lei scrive il brano Una zebra a pua, mentre la trasmissione doppia coppia la presenta con la bellissima Sylvie Vartan. È stato compositore di colonne sonore di film famosi della commedia italiana, tra quali Totò, Peppino e la malafemmina, Totò lascia ora doppia e Venezia, la luna e tu. Come autore partecipa al Festival di Sanremo 1964 con Piccolo Piccolo, contesto di Antonio Amurri, interpretata da Emilio Pericoli e Peter Krauss. Alla radio conduce Heat Parade, una rubrica settimanale sui 45 giri più venduti, andata in onda ininterrottamente dal 1967 al 1976. Nel maggio del 1970, all'apice del successo, viene arrestato insieme a Walter Chiari con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Dopo 27 giorni di detenzione, viene prosciolto da ogni accusa. Dopo un periodo sostituito da Renzo Arbore nella conduzione della Heat Parade per via dell'assenza forzata, Lelio Luttazzi ritorna alla radio a presentare Heat Parade dal 26 febbraio 1971 fino alla chiusura della trasmissione nel 1976. Negli anni successivi, lavora ancora in tv, nelle trasmissioni, ma molto saltuariamente. Nel 1991, gli viene conferito il premio di San Giusto d'Oro dai cronisti del Friuli Venezia Giulia. Nel 1992, dopo una serie di concerti jazz in Italia, gli viene conferito il premio Una vita per il jazz. Nel 2003 scrive un altro bellissimo brano per la grande mina, Ma tu chi sei? E nel 2008 decide di trasferirsi definitivamente nella sua bellissima cittadina Trieste. Il 19 febbraio del 2009 partecipa al Festival di Sanremo dove ritira il premio alla musica 2009 e accompagna al pianoforte la vincitrice Arisa nel brano Sincerità. E nello stesso anno, il 15 agosto, tiene il suo ultimo concerto presso la Piazza di Unità d'Italia di Trieste con il suo sestetto. Lelio Luttazzi muore la notte dell'8 luglio del 2010 all'età di 87 anni, nella sua casa di Trieste. Come sua volontà, le sue ceneri sono state sparse nel Golfo di Trieste e anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tanti domani. Un caro, caro abbraccio da me Silvia Pagni. Ciao!